Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio fare il cosa ne penso di Tainted Grail, The Fall of Avalon Che ci è arrivata a casa da qualche giorno e ovviamente abbiamo la versione Kickstarter, versione Sundrop Quindi scatola di base, con tutte le miniature dipinte con l'effetto Sundrop E non abbiamo le espansioni, perché questo era il nostro pledge E ringraziamo ancora una volta la Wicked Realms per averci offerto una copia per la recensione Vi dico subito che l'unboxing non c'è in questo video, perché trovate la nota video Andate a vedere il video precedente che abbiamo fatto di Tainted Grail In cui appunto era tutto dedicato all'unboxing Cosa tipica è che lo faremo non spesso, però nei giochi di maggior successo Appena arriva il gioco faremo subito il video dell'unboxing o almeno dei titoli più richiesti C'era molto hype intorno, avevo molto hype io e anche mia moglie, quindi abbiamo deciso di farlo subito Comunque preciso subito dicendo che Tainted Grail è un gioco atipico Ma poi la valutazione finale e cosa ne penso ve lo dico alla fine È un gioco atipico perché è un gioco dalla fortissima narrativa e non ha l'accompagnamento di un'app Vi faccio l'esempio, il gioco più simile a livello, non come regole non c'entra nulla Ma a livello di componentistica e di narrazione che mi viene in mente Potrebbe essere tranquillamente le case della follia che è qui dietro di me Perché in questo gioco la cosa più importante di tutto, prima ancora delle regole e di qualsiasi altra cosa È la componente narrativa, infatti il gioco organizzato che addirittura sulle stessi tile di gioco Che poi alla fine sono carte in un formato un po' più grande Hanno una faccia davanti che ci spiega che regione è E una faccia dietro dove ci spiega che cosa succede in quella regione Che cosa si può fare e poi anche un manuale d'accompagnamento immenso Un po' come Grosso Guai a Chinatown Con tutta quanta la storia Ed è un gioco che fa della narrativa il suo punto forte Perché non è un legacy O meglio, è un legacy al 50% Perché la rigiocabilità è sicuramente altissima Però la storia è quella Per quanto la storia la potete cambiare perché è bellino Potete prendere decisioni come in un videogioco Che cambieranno il corso degli eventi Quindi anche giocando le mappe della campagna Che dovrebbe essere una quindicina I vari capitoli Rigiocandoli da capo La storia non sarà la stessa per quanto ovviamente magari il plot è quello Inizio e fine Ma soprattutto perché la storia cambia a seconda delle decisioni che prenderete Ed è un gioco veramente bello Dove se ovviamente non vi piace leggere paginate e paginate di roba Farete un po' di fatica a giocarci Però anche questo nella considerazione finale Ed è ambientato al tempo di Re Artù In una ambientazione un po' rivista di Camelot, di Avalon Insomma, dell'Inghilterra, della Britannia Per meglio dire, dell'epoca Re Artù, inglesi, scelti e sassoni e quant'altro E molto 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 rivista In chiave ovviamente gotica horror reinventata dalla Wicked Reams L'ambientazione per farvela veloce È tutto quanto basato sull'isola di Avalon L'isola di Avalon che ricordiamo essere famosa Perché si dice che laggiù ci fosse il castello del mago Merlino E della Dama del Lago Nimu E praticamente in questa ambientazione la storia è che tutto il mondo conosciuto O perlomeno, vabbè, la Britannia Dove si svolgono le vicende dei cavalieri della tavola rotonda Stanno venendo a volte da questo weirdness Il weirdness Per farla un po' in breve Almeno quello che mi ha ricordato a me Mi ha suscitato come ricordo Sembra essere una specie di nulla Vi ricordate il nulla che divorava tutto Della storia infinita Sembra essere qualcosa del genere Una maledizione antica Che si è risvegliata e sta avvolgendo e distruggendo tutto quanto il mondo conosciuto E sì che l'ultima isola, l'ultimo baluardo Il più famoso di tutti Qual è? Avalon come isola magica del mago Merlino e tutto quanto Quindi gli uomini sono arrivati con queste barche Sbarcando appunto sull'isola di Avalon Conquistandola e stabilendosi, distanziandosi lì E l'ultimo baluardo appunto della civiltà È questa isola di Avalon Che noi dovremmo riuscire a capire da cosa è generato questo weirdness E tramite minire cose particolari Anche bella come ambientazione Riuscire a fermare l'avanzata del weirdness Perché altrimenti distruggerà completamente il mondo Ed è molto bella anche nelle meccaniche delle regole Perché è sempre Sei sempre a un passo Con questa specie di tra mille virgolette nulla che ti insegue Che ti distrugge la mappa di gioco mentre stai giocando E che ti potrebbe uccidere da un momento all'altro Quindi è una cosa importante della storia Ma anche della componentistica E soprattutto delle regole del gioco Vi faccio vedere un po' come funziona Allora ragazzi Come vedete di carne al fuoco in questo gioco Ce n'è davvero tantissima E fate conto che ora stiamo facendo una partita a due Con le regole a due giocatori Ovviamente quello che vedete in campo è soltanto un personaggio Che è lei Eilei Si dovrebbe chiamare qualcosa del genere Eilei Ed è il personaggio che useremo per questa avventura Ora il setup del gioco è abbastanza macchinoso e lungo Però fondamentalmente le regole sono facili Vi faccio una descrizione veloce di tutti i componenti Partendo da di qua vedete tre schede Che dovete dare a ciascun giocatore Che praticamente è il turno L'ordine del turno L'ordine dei movimenti L'icone che ci sono nel gioco Che poi vi andrò a descrivere E soprattutto il combattimento Sia il combattimento che la diplomacy Come funziona Quindi queste qui sono schedine Carte repilogative Una mappa dell'isola di Avalon Che questa qui è raffigurativa Cioè non ha una vera e propria utilità A livello di regole Però vi serve perché Quando vi sposterete nel gioco Magari sapendo che la vostra zona di partenza è questa La missione vi potrebbe dire Ed è una cosa molto bellina Che lo fa diventare una specie di GDR Vai a nord e trova questo posto qua giù Te sai che se ti sposti a sinistra È impossibile che lo vai a trovare Tutto al più troverai questo villaggio O queste cose Quindi questa scheda Questa mappa serve sempre Tenuta a portata di mano Per ricordarvi Come è fatta all'isola di Avalon E per spostarvi sui tiles di gioco Consiglio spensierato ragazzi Sia la mappa che questa Plastificatele E le faremo subito in mia moglie Perché è veramente un foglio sottilissimo Che rischia di romperci Quindi plastificatele Per l'amore degli dei E praticamente questa è La storia È una lettera Personale Che il vostro personaggio ha ricevuto Nel caso di Ailey Questa è praticamente La lettera che lei ha ricevuto Il gioco che vedete ora È in inglese Però la Giochi Uniti Lo sta traducendo in italiano E lo porterà nel corso del 2020 Leggete ad alta voce La storia del vostro personaggio E tutti gli altri giocatori Faranno lo stesso La scheda di salvataggio Non si può giocare senza Perché dovete annotare Tutte quante le cose Che vi riguardano Che ne so Locazioni esplorate Le note del giocatore Ho conosciuto questo Ho fatto questo Ho fatto quest'altro Ma la parte più importante È questa qui dietro Che vedete Ci sono scritti Helping Hand Quest of Honor Perché nel gioco Ci sono tante quest E se voi una sera Finite una partita E la iniziate il giorno dopo Perché dura anche 3-4 ore È una partita Questo gioco qui E non vi ricordate Dove siete arrivati Che quest avete fatto Ve le segnate Semplicemente con una X Vedete ci sono i vari step Ma soprattutto Anche da tenere a mente Durante il corso della partita Perché uno si potrebbe Dimenticare A che step sera Della quest numero 2 Eravamo al secondo Al terzo Ce l'hai segnato sulla scheda E non ti puoi sbagliare Dadi di gioco Che è un dado da 6 normale Molto bellino Tra l'altro come disegno e tutto Che a volte qualche evento Vi dirà magari Tirate un dado da 6 Guardate il risultato È il dado del movimento Dei guardiani Perché vedete Questo tipo si muove a sud Questo tipo si muove a ovest E serve per far muovere mostri Praticamente Che ci sono sulla mappa Scheda del personaggio Miniatura del personaggio Che abbiamo scelto Ai lei In questo caso E la carta del personaggio Che è Double Fass Come vedete Qui E da questa parte Ci è segnato il setup di partenza Seguite soltanto Quello che c'è scritto E rimettete I vari cubini rossi Nelle caratteristiche Che vi vengono dette E poi dall'altra parte C'è la scheda Vera e propria Del personaggio Con le abilità Vedete Ogni personaggio Ha 1 o 2 abilità O varie Sulla scheda del personaggio Si vedono le caratteristiche Che sono queste qui laterali 3 e 3 Che vi serviranno Per i combattimenti Per la diplomacy L'indicatore della vita Che è questa cosa qui A forma di T Che dovrete spostare Ovviamente ogni volta Che subirete dei colpi L'indicatore del terrore Quindi della sanità mentale Del personaggio Indicatore della vita E indicatore dell'energia Quindi le mosse Che può fare il vostro personaggio All'inizio i cubetti Metteteli dove ci sono Delle freccette accanto Vuol dire che questo È il valore di partenza Del personaggio Che avete scelto Con la regola Che ogni volta Che subirete un colpo vita Ovviamente un punto ferita Questo cursore Si abbasserà Quindi andrà su 6 A scalare fino a 0 Quando arriverete a 0 Il vostro personaggio Sarà fuori del combattimento E la regola Vuole che Sia l'energia Che il livello di terrore E la paura Non devono mai superare Questo cursore Perché se il cursore Della vita Si abbassa a 5 Il valore dell'energia Potrà essere massimo Recuperato fino a 5 Quindi l'energia È sempre allo stesso livello Della vita Più scende la vita Più avete meno energia Da usare Perché siete feriti E sanguinanti E invece il terrore Che va alla rovescia Dal basso Va verso l'alto Quando il terrore Supera l'attuale valore Della vita Quindi va oltre Il vostro personaggio Subirà una carta Panico E dovrete pescare una carta Avrà regole particolari Insomma Che lo bloccheranno Su tante azioni Soprattutto Sui combattimenti E sulla parte diplomazia Poi Food Perché nel gioco Si deve mangiare A fine di ogni turno Dovete mangiare Se non mangiate Consumate energia Poi ovviamente Reputazione del personaggio Perché la reputazione è importante Non è un gioco di combattimenti Questo Se vi va bene Se vi girano bene le carte Gira bene la storia Anche tutto quanto Un gioco di diplomacy Quindi il vostro personaggio Che reputazione ha Con gli abitanti Dell'isola di Avalon E poi qui Ai lati Come vi ho detto Le caratteristiche Potete alzare di livello Guadagnando Punti vittoria Questi punti vittoria Punti esperienza Li spendete Per alzare queste caratteristiche O per comprarne di nuove Perché vi serviranno Come vedrete successivamente Nei combattimenti E qui Inizia Il marasma Di carte Perché infatti Questo è un gioco Al 90% di carte E l'ultimo 10% Di miniature Fate conto Che gli stessi Tali di gioco Sono carte Abbiamo il mazzo Diplomacy Legata al personaggio Perché ciascun mazzo Come vedete Di carte Ha un colore Ok Quindi il colore Del mazzo verde Con questa banderina verde Vuol dire che è un mazzo Di partenza Di Ailei Che la sua scheda è verde Vi ricordate un po' Come era nel setup Anche di Di Nemesis Ogni personaggio Ha il suo mazzo Quindi le carte Che userà Questo personaggio qui Saranno diverse Magari da Beor Che è il combattente Mazzo Diplomacy Mazzo Combat Di partenza Advanced Pool Del mazzo Combat Advancement Pool Del mazzo Diplomacy Quindi queste Saranno le carte Che potrete acquistare Con i punti esperienza Per rinvigorire Il vostro mazzo Di partenza Carte degli incontri Gli incontri Sono disivisi Sempre per colore Perché ricordatevi Che sarà la stessa avventura E lo stesso tile Di gioco Più manuale Che vi dirà Che tipo di incontro Troverete Quindi potrebbe essere Un incontro viola Un incontro verde Un incontro bianco Comunque o grigio E un incontro blu Quassù in cima Abbiamo Da questa parte qui Le carte segreto Che sono numerate E saranno carte Che dovrà leggere Il giocatore O il gruppo di giocatori Perché è un gioco In cooperativa Quando l'avventura Vi dirà Che avete trovato Un segreto Per questo ragazzi Ricordatevi bene Di segnarle anche Sulla vostra scheda Perché magari uno dice Che segreto avevo L'altra porta Che numero era Segnatevi tutto Poi le carte item Quindi equipaggiamento Che potete trovare Nell'avventura Comprare nei negozi Trovare Possono essere applicate D'ora in avanti Quando invece il personaggio Arriva a zero punti ferita Le dovete dare una carta Stai morendo E dietro c'è scritto Cosa potrete E non potrete fare Questi qui sono tutte quante Le carte tile Che ora vi faccio vedere Come funzionano Quindi queste qui Sono i veri e propri tile Di gioco E ragazzi Ce n'è un milione E sono disegnati da paura Carte evento speciali Legate al capitolo Che andremo a giocare Visto che ci sono 14-15 avventure nel gioco Noi iniziamo Con l'avventura numero uno E queste qui sono le carte Che dovete numerare Da uno Andando in fondo In questo caso qui sono sei La carta del setup Del capitolo uno Questa carta vi dice Come setappare Tutta quanta l'avventura Che vedete ora Cosa mettere Cosa non mettere Mazzi mostri Quali mettere E dietro anche Le carte evento Come creare il mazzo evento E la mappa di gioco Ora vi sposto un attimino Al menhir Perché vi faccio Una piccola descrizione Questa è la mappa di gioco Ogni tile Ragazzi scusate Ve lo giro velocemente E ve lo rigiro Perché è uno spoiler Vi dico soltanto Che girarli Per leggere Cosa c'è dietro È uno spoiler Per chiunque Lo volesse giocare Perché non è un gioco Legacy ragazzi Però ovviamente Cosa c'è scritto Dietro a questa carta Volete anche la bellezza Di scoprirlo Mentre state giocando Una cosa ananta Con i vostri amici O volete rovinarvelo Durante un video La componente Narrativa È immensa Io non vi dico Che questo gioco Non sia rigiocabile Però sicuramente Come il primo impatto Della prima giocata Sarà ecco difficile Raverlo Per quanto la storia Cambia A seconda delle azioni Comunque vedete Questa è la carta di partenza La 101 Che praticamente ci dice Che siamo in questa Farmhold In questa fattoria Tutti i nostri personaggi All'inizio partiranno da qua Ora come vedete Ci sono delle frecce Lati Di ogni carta Questa qui Che ne so La 101 Dice che connette Con la 105 sotto E noi ce l'abbiamo messa Connette con la 104 Da questo lato E noi ce l'abbiamo messa E a sua volta Le carte si connettano In vari punti Che ne so La 104 Connette con la 109 qui Connette con la 101 Di qua Come vedete E connette con la 107 Quassù in cima Se non ha collegamenti Da questo lato Se qui non ha una freccia Vuol dire che il vostro personaggio Non potrà andare Da questa parte Ma dovrà trovare Una strada alternativa Da seguire Magari c'è una montagna O come in questo caso C'è un mare Quindi comunque C'è la costa Da questa parte qui Non ci potrà andare Descrizione Un pochino delle carte Per farvi un esempio Le carte hanno sempre Un numero in cima Qualcosa che succede È una descrizione Quando sulle carte Qualsiasi tipo di carta Tutte carte azione Carte tile Vedete un fulmine Vuol dire che Quello che c'è scritto Qui deve essere applicato Prima di ogni cosa Quando il vostro personaggio Va qui Automaticamente dovete applicare Questa cosa che vedete E poi tutti quanti i simboletti Che ci sono sotto Che ritrovate poi Direttamente Nella carta Descrittiva Che vi ho detto Ad esempio Questi simboli qua giù Sono un simbolo di sogno Che vuol dire Che quando il vostro personaggio Finirà La vostra Il suo turno In questa carta Dovrete prendere Il manuale delle avventure Che è quello bello corposo Che vi ho fatto vedere all'inizio E dovrete andare a leggere Su questa farmhold In questa fattoria Dovrete vedere Qual è il sogno Girerete Leggerete il sogno Quello che succede Una visione mistica Qualcosa di druidico E se invece La vostra sanità mentale È alta Quindi allevata Su due cubetti rossi Finali Il vostro personaggio Praticamente avrà un incubo Quindi invece di leggere Il sogno Leggerete l'incubo Il secondo simbolo accanto Vuol dire che è un Friendly settlement Quindi vuol dire Che è una città amica Qui non ci saranno Incontri Almeno che un mostro Non vi rincura per la mappa E qui praticamente Potrete fare le azioni Che ci sono scritte Ok Quindi questa è l'azione Che vi dice Cosa potete fare in questa carta In questo caso qui Spendendo uno di energia L'energia è quella Che vi ho fatto vedere Sulla scheda Spendendo uno di energia Si può fare l'azione Che c'è scritta qui E in più Qui accanto C'è un simbolo viola Che è il simbolo del menhir Che è la parte più importante E caratteristica del gioco Quando c'è un simbolo Del menhir Su una carta Vuol dire che voi potrete Utilizzare un'azione Per attivare quel menhir Il primo di partenza C'è sempre Per attivare un menhir Voi prendete la carta Leggete dietro Sulla parte del menhir Che vi spiegherà Come attivarlo Quindi quando avrete Attivato un menhir Andrete a prendere Il menhir Che ce ne sono tre Nel gioco Sono queste statue Che ricordano un po' La Santa Muerte Questa specie di scheletro Lo prendete E li dovrete sempre mettere Uno di questi token All'interno Per quanto c'è scritto Dietro nella carta Di solito nell'avventura principale Dovete metterlo sul valore di 7 Come vedete qui C'è sopra un valore di 7 Quindi vuol dire Che dopo 7 turni Questo menhir Perderà il suo potere E lo andrete a girare Che sia visibile A tutti quanti Messo così Quindi mettete Il menhir Sulla carta E il vostro personaggio Ovviamente sulla carta Di partenza Ora vi spiego un po' La sequenza del turno Cosa importante Che voglio precisare Gira tutto Intorno ai menhir Praticamente Quando voi andate A scoprire nuove zone Le zone devono essere Connesse con la zona La carta del tile Dove è presente il menhir Quindi questa zona è connessa Perché è attaccata Questa uguale Questa uguale Questa uguale E valgono anche le diagonali Quindi se voi Scoprirete 109 E metterete qui la carta Dei 109 Sarà connessa al menhir Perché comunque Anche se diagonalmente La tocca In questo gioco Ci si muove solo in queste direzioni Diagonalmente no Però comunque Saranno sempre connesse Se dovreste Andare a scoprire Una nuova zona Vi faccio l'esempio Andate qua su in cima Vedete vi potete muovere Nelle varie direzioni Ora voi andate qui E scoprirete la carta 107 Che verrà messa qui Se magari dalla carta 107 Decidete di andare a nord Che vi dice Boh metti la carta 120 Ad esempio Non lo potete fare Perché non è più Il range del menhir Quindi tutto quello Che non è a distanza Di menhir Non può assolutamente Essere scoperto Perché c'è il weirdness Che praticamente Fate conto La storia infinita È una specie di nulla Che divora tutto intorno Cioè il menhir È la vostra fonte di luce E di salvezza In questa ambientazione È quello che tiene lontano Le tenebre È quello che tiene lontano La morte Questa fame Che si sta mangiando Tutto quanto Il mondo di Camelot E poi di Avalon E voi dovete fermare Quindi voi potrete stare Dovete attivarli Questi menhir E una volta attivati Per ogni turno Scalerete il gettone Che c'è sotto Quando il gettone Arriverà a zero Il menhir Sarà scarico Quindi lo dovrete Spostare Togliere E per riattivare Il menhir Doverete ritornare In questa zona Rifare l'azione Di attivarlo Che c'è scritto Detto la carta E lo riattiverete Con la carica Che c'è sopra Quando il menhir Andrà a scomparire Quindi magari Non l'avete riattivato Perché siete più lontani All'avventura Questo va a sparire Tutte le carte Che sono in contatto Col menhir Spaniscono Quindi tutto quello Che c'è qui intorno In questo rettangolo Intorno a lui Vanno a scomparire Completamente E tutti i personaggi Che si trovano Su delle carte Che vanno a sparire Subiscono due punti ferita Due punti sanità mentale E vengono spostati Nella prima casella Della mappa Ancora vicino a un menhir Vanale dirvi ragazzi Che se fate Scattare E finire il tempo Di tutti i menhir E la mappa Va a scomparire tutta La partita è persa Ovviamente Quindi dovete sempre Tenerli attivi Se vedete che Uno sta scomparendo E voi anche per una quest Che avete pescato Dovete tornare In una di queste zone Tornate subito Mandate uno Veloce di corsa Ad attivare il menhir Lo riattiva E le carte rimangono Se no andranno a sparire tutto Tutte quante È un po' come vi ho detto Il nulla Che divora Queste cose qui Questo mondo Quindi partendo Partendo da questo punto qua Voi ricordatevi sempre Delle icone Che vedete sopra Che vi ho descritto Se vedete una città Invece di verde Rossa Vuol dire che è una città nemica E quando c'è una città nemica Automaticamente Si rivela un incontro Quindi l'incontro Lo andate a pescare Dal mazzo appropriato Lo vedete direttamente O sul libro dell'avventure O girando la carta Ora Le azioni che può fare Il personaggio Nel suo turno Sono Esplorare Viaggiare Le azioni Della locazione Inspezionare Un menhir Che ora È quello che vi ho detto prima Ma ve lo vado a ripetere Poi I segreti E le carte azioni Del personaggio Oppure passare il turno E ogni azione Ha un costo Ad esempio Esplorare Vuol dire Girare una carta Quindi io spreco Un punto Azione della mia energia Che è quella che avete visto Sulla scheda Per esplorare questa carta Quindi questa carta La prendo e la giro Ragazzi Non ve le giro Solo per non spoilerarvi La storia Comunque Esploro Giro E la lascio Sul lato girato Ovviamente Una volta che è esplorata Esploro Giro E anche questa La lascio dal lato girato E vado a leggere Cosa c'è dietro Potrebbe essere Una cosa positiva Una cosa negativa Un combattimento O quant'altro Quindi noi la giriamo Dietro c'è scritto Cosa succederà O magari ci potrebbe dire Andate a pagina 20 Capitolo 2 Del libro dell'avventure E voi leggete Cosa succede Viaggiare Ovviamente Un'azione Mi sposto E vado In un'altra casella Ricordate che Se c'è un fulmine Dovete subito Fare l'azione Che c'è scritta Mi sposto Vado in un'altra casella Poi magari Nel turno dopo Mi risposto E consumo 2 di energia E visto che posso andare Solo da questa parte Vado a mettere la 108 E guardo che cosa c'è Quaggiù nella carta 108 Altra azione Che potete fare È l'azione Della locazione Quindi ogni azione Vedete Ogni location C'ha un'azione Questa costa 1 di energia 1 di energia Questa addirittura 4 di energia Questo è un fulmine Che vuol dire Che deve essere fatta subito E questo 2 Quindi un'altra azione Che posso fare È l'azione Qui descritta Che non è esplorare Quindi non serve nemmeno Che la giri Ispezionare un menhir Quindi girare la carta Leggere la parte in fondo Del menhir Per quello che c'è scritto E nel caso Attivarlo Quando attivate un menhir Semplicemente lo prendete E lo andate a mettere Sulla mappa di gioco Ora poi Ve l'avevo spostato Per farvi vedere Anche le carte intorno Un'altra azione Che si può fare Però ovviamente È un'azione Che ha un costo Variabile A seconda di Quello che c'è scritto Sulla carta Potete fare l'azione Di o una carta segreto Che avete preso Precidentemente O se no Potete fare l'azione Descritta da un oggetto Quindi potete avere Oggetti Equipaggiamenti Che potete comprare O trovate a giro Vedete quello che c'è scritto Ad esempio In azione E queste carte qui Oggetto Ricordatevi che ne potete Soltanto avere Una per tipo Una sola Quindi una spada Un'armatura Un elmo Un mantello Una reliquia E cose varie Non potete avere due spade Non potete avere due reliquie Dovete sempre scegliere Quale tenere in campo E quale magari mettere Nell'inventario L'esplorazione della carta Visto che è un gioco Che si basa tutto Sulle esplorazioni Tranquilli ragazzi Sembra complicato Perché c'è tanta carne al fuoco È come Nemesis Sembra difficile Mia moglie Mia moglie Anche lei Che non ci aveva mai giocato Dopo il primo giro Aveva già capito Come funzionava Voi dovete Semplicemente Muovervi Esplorare Perché se non esplorate La zona Sì fate l'azione Che c'è scritta Però non sapete Cosa c'è indietro E cosa importantissima Voi dovete Andare a pescare Dal mazzo degli eventi Quando l'avventura Ve lo dirà Perché Sono le carte Evento speciali Dal capitolo 1 Al capitolo 6 Che vi portano avanti L'avventura Quindi sarà il capitolo Per passare al capitolo 2 Dovrete aver completato Ovviamente quello che c'è scritto Nel capitolo 1 Se non lo completerete Quest a parte Non potrete finire l'avventura In più ci sono anche Le carte quest Che vi ho detto prima Ci potrebbero essere Carte quest da risolvere subito O carte quest Che rimangano attive Quindi quando ti rimane Una carta quest attiva Che ne so Libera questo personaggio Oppure vai a parlare Con il druido In questa zona Quelle sono opzionali Voi avete Tot tempo O possano essere Anche infinite Perché Ci potreste mettere Che ne so Un token quest Che sono queste gialle Che vuol dire Che all'inizio Il turno successivo Lo dovete togliere E quella quest lì Scadrà Cioè potrebbero essere Due, tre O anche di più Quindi sono queste A tempo O permanenti Andandole a risolvere Ovviamente prenderete Le bonus Perché ricordatevi Che il vostro personaggio Deve passare di livello Perché non può affrontare Il weirdness Direttamente Questo nulla Che devora tutto Con le caratteristiche Di partenza Dovrà guadagnare Magari nuove abilità Dovrà guadagnare Nuove carte Anche perché Questo gioco È un deck building Quindi passando di livello Si guadagna La carte nuove E in più Quando la carta Girandola Per l'esplorazione O per un Un settlement Nemico Vi dice che dovete Pescare un nemico Voi andrete sempre A pescare un nemico Dal mazzo Che vi verrà detto O dalla carta stessa O dal libro avventura Che ne so Potrebbe essere Trovi un nemico verde Quindi pesca un nemico verde Casualmente Di solito La prima carta Che dovete pescare Lo faccio vedere È sempre il tuo primo incontro C'è scritto sopra Che è una carta Ragazzi Calibrata Che vi descrive tutto Cosa c'è scritto sopra Ed è fatta Soprattutto Uno è un incontro facile Molto più facile Degli altri Ed è anche per evitare Che ti capiti un mostro Della madonna Di livello altissimo Te c'è il personaggio Ancora a livello schifoso E ovviamente Ne toccheresti Quando capita Una carta mostro Mettiamo caso Lo sposto un attimino Perché si veda meglio Mettiamo caso Che in questa casella Quaggiù Si è capitato Il mostro Quindi il mostro È presente in questa zona Ora vedete Mi pento di non aver preso Monster of Avalon Perché ci toccate Nelle carte dei mostri Che secondo me Vanno a rovinare Un po' l'immersione Invece se prendete Anche l'espansione Ci avete proprio Il mostro Di plastica Comunque Arriva questo mostro qui Che ha delle varie caratteristiche E questo mostro Come vedete Sulla scheda Intanto ci dà Un valore dell'incontro Che è questo qua giù Ci dà Le caratteristiche chiave Che ora poi vi spiego Tutto quanto Come funziona Da questa parte qui Ci andrà la combat pool Sono tutti i dadi Che verranno creati E qua sotto C'è l'attacco del mostro Quindi nel caso Perdiamo un combattimento Qui sotto Ci dirà che cosa succede Praticamente Il gioco funziona Molto facilmente È un pescare carte All'inizio del turno A seconda del tipo Di combattimento Che ci è venuto fuori In questo caso qui Visto che è Un combattimento Quindi non è Un diplomacy Noi andremo a pescare Dal mazzo combattimento Se fosse un diplomacy Andremo a pescare Dal mazzo diplomacy Quindi prendiamo Il nostro mazzo di partenza Che vi ho fatto vedere prima Che è questo qua giù Che è del personaggio Di Eilei Andiamo a pescare Tre carte Una, due E tre Quindi le tre carte Che avete pescato Sono queste qui Ciascun giocatore All'inizio del combattimento Ne pesca tre Quindi Se potete fare Combattimenti da soli Nel caso Nella zona ci state solo voi O farli in cooperativa Nel caso Nella zona ci sia qualcuno Un altro personaggio Perché è un gioco Fortemente cooperativo Non competitivo Che vi dia Una mano a combattere Quindi due eroi Pescheranno tre carte A testa Abbiamo pescato le carte Ora come vedete Sia le nostre carte Azione Che la carta Mostro di partenza Ha dei collegamenti Qui di lato Per quanto la prima carta La potete giocare Senza Anche che Se non ha collegamenti Qui accanto Lo potete fare Perché è la prima carta Che mettete in gioco Dovrete creare Una sequenza Che vada Da questa parte qui Fino a che il combattimento Non sarà finito e risolto Che ne so Vedete qui c'è un simbolino Vuol dire che queste qui Sono le caratteristiche Questa è la magia Mentre questo qua giù È un collegamento libero Cosa vuol dire Che questo collegamento libero Si collega con qualsiasi cosa E poi vi da il bonus Che c'è scritto Il collegamento magico Lo potete usare Soltanto se spendete Un punto magia E se il vostro personaggio Non ce l'ha Nella scheda Inizialmente Di punti magia Non lo potete fare Ma la magia si guadagna Andando avanti nel gioco Più le tre caratteristiche Che vi ho fatto vedere Sulla scheda Quindi se il vostro personaggio Questa caratteristica qui Sarebbe aggression Non ce l'ha Ok Non ha nemmeno un valore Non potrà Prendere il bonus Che ci sarà scritto qui Vi faccio un esempio Se ad esempio Con la carta di partenza Ci collegassi Accanto questa qui Come vedete Ce la metto accanto così Cosa mi direbbe il gioco Io ho usato questa carta Ah Quando c'è questo simbolo qui Vedete Vuol dire che Appena la mettete in gioco Questa carta qui Dovete automaticamente risolvere Quello che c'è scritto qui Subito Appena la giocate Quindi Farete quello che c'è scritto Quaggiù E ora mi dice Che se ho il simbolo Dell'aggression La caratteristica Collegandola Mi dà La possibilità di pescare Una carta nuova Quindi da questo mazzo qui Andrei a pescare un'altra E me la mette in mano Se L'ho collegata con questo Se Oltretutto L'ho collegata anche con quest'altra Magari io potrei avere anche Quest'altra caratteristica Questa Carta qui gialla Con una freccia Dice che posso giocare Un'altra carta Perché per ogni turno Di combattimento Gli eroi possono giocare Una carta a testa Ce ne potete avere anche 20 in mano Ma ne potete giocare Soltanto Una alla volta Invece Visto che ho collegato questo Mi dice Ne puoi giocare un'altra Quindi questo turno Ne puoi giocare addirittura due Questo Non l'ho collegato con niente Perché qui vedete Non c'è nulla È vuoto Questo mi dice Che se spendo il punto magia Che vi dicevo prima Pesco un'altra carta Quindi facciamo conto Che ce l'ho Vai Usato il punto magia Pesco un'altra carta E vedete che il mio mazzo Sta diventando sempre più consistente Sì è vero che ne posso giocare poche Però almeno in mano Ho tantissima scelta E questo qua giù in fondo Che è libero Mi dice Ricevo uno per Niente Perché non c'è nulla Mi è andata male Ho giocato qualcosa di male Ci avessi messo ad esempio questa Mi avrebbe detto Uno per Gioca un'altra carta Quindi se collegavo questa E questa Voleva dire che io In questo turno Potevo giocare due carte aggiuntive Non una ma due Quindi L'ho montata male Va bene Che se ne frega Ora Se ci sono più giocatori in campo Si va a vedere tutti i bonus Che abbiamo ricevuto E poi si va a vedere Nel combattimento Cosa succede Nella fattispecie Se ci fosse stato Un altro giocatore presente Avrebbe potuto mettere La sua carta Una volta che tutti i giocatori Hanno messo le proprie carte Ovviamente Si va alla fase dei mostri Quando andate alla fase dei mostri Leggete sempre cosa succede Quindi Dice che se sono stati messi Da questa parte Nel dice pool Combat pool Se ci sono 0-2 Il mostro ci fa un punto ferita Se ce ne sono 3 Perdiamo Un cubetto Ok Quindi uno di questi cubetti Viene rimosso Visto che ora Nessuna delle cose Che ho collegato Ha dato cubetti Io mi prendo una ferita E la ferita La vado a scalare Vado a scalare Un punto ferita Come avete visto qui Ricordatevi che L'energia non può mai superare la vita Quindi deve stare sempre sotto E Il terror Se supera Invece La vita Va oltre Dovrete subire Una carta follia Come vi ho fatto vedere prima Il combattimento va avanti Perché il combattimento Fino a che non è risolto Dovete continuare a buttare carte Fino a che ovviamente Non ce ne avete più in mano E lì c'è una regola particolare Che praticamente il vostro Vi fa una ferita addosso O Scappa O Quello dipende dal tipo di mostro Che state fronteggiando Ora Turno successivo Sempre dello stesso combattimento Ragazzi Il turno è unico Però Nuova mano Di carte Dopo aver subito tutti quanti I punti ferita Ah Se questo mostro fa una ferita Ok Non ci sono dadi nel combat pool Non soltanto il vostro personaggio Subisce una ferita Ma anche tutti i dati presenti Quindi le ferite Che sono scritte qui La creatura Le fa tutti gli eroi in gioco Ora Dopo io potrei dire Allora Stavolta Vado ad attaccarci Questa Vedete Questa carta qui Che ci ho attaccato Cosa mi dice Simbolo qua giù Caratteristica Non è connessa a niente Quindi non farà nulla Però io Queste due caratteristiche sotto Facciamo finta che ce l'abbia Queste due qui Io ce l'ho Ok Tutte e due Con la freccia messa così Quindi Che cosa mi vogliono dire Vuol dire che Visto che c'ho questa Peglio un cubetto Oh finalmente lo metto Nel combat dice Nel combat pool Scusate C'ho anche quello sotto Quindi ce ne metto Un altro Qua giù in cima In più Facciamo conto Che c'ho sempre Quel famoso puntino magia Da spendere O ce ne avevo un paio Me ne prendo Un altro di cubetto In più Visto come l'ho collegata Qua giù in fondo Che questo qui È uno slot aperto Mi dice Ok prendine altri due Quindi vedete Come ora Da zero Abbiamo portato Il combat pool A cinque Quindi queste sono le ferite Che abbiamo portato Al nostro nemico Qui c'è un simbolino Ricordatevi sempre Di risolverlo subito Mi direbbe Pesca un'altra carta Quindi la mia mano Diventa sempre più Più grande Ora Avendo fatto Cinque ferite Al nemico Qua giù in cima Il livello di sfida Del mostro Sono i cubetti Che dovete fare Per ucciderlo Quindi a quattro punti ferita Io gliene ho fatti cinque Per tutte le cose Che ho collegato Il mostro muore Viene rimosso E io prendo il loot Che c'è sotto Il loot va diviso Quindi dice Che ci dà un food Quindi prendete Un cubettino rosso E ve lo mettete nel food E gli altri giocatori Che sono con noi Non prendono niente Perché il loot È unico Quindi nel caso Bisogna dividercelo E la sfida è finita Nelle sfide diplomacy Invece a differenza Di queste qua Nelle sfide diplomacy Invece La differenza è che Ci sarà sempre Vedete cose da collegare Però È più una cosa Di diplomazia Appunto Di politica Quindi dovrete Che ne so Arrivare in un villaggio Con un clan Fare una chiacchierata Che poi potrà finire bene O male Sotto c'è scritto ovviamente Se vincete Cosa succede Il fallimento Con la differenza Che voi dovrete mettere Un cubetto Mettetecelo accanto Sul livello iniziale Che è quello grigio E per ogni cubetto Ferita Come nel combattimento Prima farete Questo andrà su Fino a che non arriverete Nel verde E avrete risolto Questa carta Invece se fallirete C'è scritto sotto Il fallimento Cosa comporta Andrà verso il basso E quando arriverà Il simbolo rosso In fondo L'avrete perso E dovrete vedere Cosa succede Vi attaccano Vi scacciano Dal villaggio Quella è sempre Una cosa Narrativa Scritta In fondo Quaggiù O vi potrebbe rimandare A delle note del manuale In più Qui c'è scritto anche I tipi di prove Che ci sono da fare E quello che succederà Col teschio Nel caso falliate Quindi laddove Nel combattimento Vi fa il mostro Una ferita Qui che ne so Perderete Ad esempio Uno di energia Più altre cose Quindi quello che differenzia Un incontro Pro diplomacy Rispetto a un incontro Combat È che Ci saranno Delle diverse cose Da fare Comunque il meccanismo È sempre lo stesso Finito Questo turno qui Dovrete sempre Andare a prendere Il manuale Per vedere Nella carta Dove vi fermate Se c'è un simbolo di sonno Ad esempio Dovrete vedere A seconda del capitolo Quello che c'è scritto Sulla carta 104 Che tipo di sogno Andrete a fare Perché saranno cose Che vi uteranno Nella storia Nel proseguimento Potrebbero sbloccare eventi Nel caso la vostra sanità mentale Sia oltremodo negativa Invece andrete a leggere Il capitolo Incubo Sempre sulla carta 104 Poi Per tutto il resto Dovete semplicemente Stappare tutti quanti Gli effetti che ci sono Quindi che ne so Se su una carta O su un evento in particolare C'era un token del tempo Lo dovete andare a levare E quindi vuol dire Che o quella carta Rie è pronta O quell'evento lì Ormai è scaduto E poi ricordatevi sempre Nei menhir Attivi che ci sono Di prendere E girare il token Scalandolo di 1 Perché quando Il valore del token Arriverà a 0 Il menhir scomparirà E con lui Tutte le zone Che ci saranno Collegate Quindi Quando un personaggio Che è su una mappa Viene distrutta Perché il menhir Varvia E il weirdness Avvolge la sua fame distruttiva Distrugge quella parte Di mappa Di mondo Voi Il vostro personaggio E tutte le creature Che ci saranno Tutti i villaggi Tutto quanto Verranno completamente distrutti E il vostro personaggio Perderà 2 punti vita E prenderà 2 punti sanità mentale Quindi 2 punti follie Verrà spostato Verso La prima zona Utile di gioco Ragazzi Bene o male Il regolamento di gioco È questo qui Ovviamente ci vorrebbero Molto Cioè Quello che mi interessa a me È darvi un'infarinatura Poi per farvi vedere Come funziona meglio Vi ci farò un gameplay Con mia moglie Almeno vi spiegherò Vedrete passo per passo Come funziona L'ultima cosa Che vi voglio dire È quando c'è un mostro Presente sulla mappa Ci metto una carta a caso Eh ragazzi Così Tanto comunque È un incontro O è un mostro O è un diplomacy Nel caso fosse un mostro E il mostro è In questa zona qui Voi Alla fine della fase Quando tutti i giocatori Hanno fatto il turno Dovrete tirare il dado mostro Tirate il dado mostro E vedete cosa c'è scritto Sul dado Il dado c'è scritto Che il mostro Si muoverà Verso la freccetta nera E vedete anche la direzione A nord Quindi questo mostro Si sposta direttamente E va a nord Quindi si sposta E va qua giù Anche durante Un coso Una sfida Se fosse stato In questa casella Si sposta automaticamente E va in un'altra Ricordatevi che Ciascun giocatore Che si dovesse muovere Nella zona di un mostro Automaticamente lo ingaggia Quindi si rivà Nella Nella parte di combattimento Che vi ho fatto vedere prima Se invece dovesse uscire Un valore tipo bianco O una cosa del genere O una x Il mostro non si muoverà E resterà fermo Se il mostro Si dovesse muovere In una parte di mappa Che non è ancora stata scoperta Lo dovete muovere invece Verso un tile scoperto Con il valore più basso sopra Quindi in questo caso qui Andrebbe nel Se non può andare nel 103 Perché il 103 non esiste Rimarrebbe nel 101 O andrebbe nel 102 Comunque nel più basso E questo bene o male ragazzi È tutto il regolamento di gioco Ragazzi In conclusione Questa è Tainted Grail Ci sarebbero tante cose da dire Tante cose le ho messe Soprattutto ho messo Le carte Come vi ho detto Questa qui è il lato Quello non esplorato E quello dietro è il lato esplorato Ci sono Tante cose da far vedere Tante cose da dire Infatti Aveva ragione La WKRAMS Quando mi ha mandato una mail Un video non basta Per spiegarlo E anche per questo Che ci ho voluto fare L'unboxing prima E un po' Il cosa ne penso ora Perché a parte Se no vi arriva un video Di un'ora e mezzo E poi preferisco farla a tappe Perché c'è tanto da spiegare Quindi Unboxing Cosa ne penso E seguirà un gameplay Magari leggermente più avanti Perché ora ci sono Diverse cose in programma Ci è arrivata un po' di roba Però Il gioco è bellissimo Ora Io ho capito Perché era un kickstarter Così tanto atteso Perché quello che cerca Il giocatore oggi Ma che cerco anch'io È inserire Della narrativa All'interno di un'avventura Qualcosa che lo trasformi Il board game Che lo fonda Un pochino con un GDR Però sì Anche è vero che Uno È difficile farlo senza un app Io ribadisco Centomila volte Che non ho pleme a dirlo Quello meglio Narrativo che ho visto finora È le case della follia Perché c'è il telefono Che sì È vero che devi leggere Un cella a voce Telelegge Però c'è Ti puoi anche prendere Il regolamento Lo strappi Lo butti Nel bisogno della spazzatura Ci puoi giocare lo stesso Perché lui che ti dice Tira il dado Ah ok Quale? Questo Gira il coso nel menhir Te lo ricorda proprio lui Le cose che devi fare E vabbè Poi senza contare Che in italiano C'è un gioco del genere Per chi non mastica bene In inglese E con tutta quanta La narrativa Che c'è anche nel libretto Dell'esplorazione Ragazzi Che poi è veramente Immenso E disumano Come contenuto Molto più grande Di quello di Grosso Guai 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 Questo è basato Tutto interamente Sulla storia C'è tante cose Da leggere Infatti il regolamento Stesso vi consiglia Di stabilire Un giocatore Che farà Tra virgolette Il lettore Oppure vi dice proprio Se quanti siete al tavolo Perché questo è un gioco Da quattro no? Quanti siete al tavolo? In cinque E me si fa a giocare tutti Allora quattro giocano E uno fa il narratore Uno fa soltanto Quello che andrà a leggere tutto C'è tanta 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 Carne al fuoco A livello di narrazione A livello di storia Ed è un gioco Pesante Non è complesso Eh ragazzi Perché vi giuro Il regolamento Anche qui Vi faccio un complimento Alla Wiccan Reams Perché come di Nemesis Letto una volta Una volta e mezzo Ma perché non mi ricordavo Qualche passaggio Il regolamento è facile Poi ci sta l'errore La regola detta Prettamente Magari mi sono dimenticato qualcosa Però il regolamento Va sicuro Che questo qui Che vi ho spiegato Ed è molto facile E ti viene automatico Insomma no? Di vedere un po' Come funziona tutto quanto Solo che c'è troppa Il setup è infinito Ragazzi Se qualcuno di voi Si era messo paura Del setup iniziale Di Nemesis Qui è peggio Perché Nemesis È un gioco di miniature e carte Questo è un gioco di carte E forse miniature Perché nel gioco base Cosa c'è? Un eroe C'è gli eroi Non ci sono nemmeno mostri E poi c'è Il bellissimo Che ve lo faccio rivedere Il Menhir Quindi Di miniature ce n'è poche da muovere E si basa molto più Sulle carte E sull'esplorazione Ma ce n'è troppe Perché poi nel setup iniziale Dovete prendere le carte Del colore del vostro personaggio Quelle con la bandierina Sono quelle di base Quelle senza bandierina Sono quelle che dovete mischiare Con quelle della bandierina Ok? E devono essere 15 Poi tutte le altre Senza bandierina Le dovete mischiare fra di loro E fare il mazzo Dell'avancement pool Con le carte Col colore Il nome Del personaggio Cioè Già non ci capite per nulla Per far setup Io e mia moglie Per fare sto video Il setup di un personaggio Ci si è messo un'ora Per poi non contare Che il gioco ti dice E se muori cosa fai? Aspetti che quella ti finisca L'avventura No Magari siamo in due Il mio personaggio muore Prendo un altro personaggio Magari Beor Dalla scatola E gioco con lui Sì ma devo rifare tutto il setup Cioè ragazzi Appena muoio Basta Non gioco più Perché il gioco si riferma Ci rivolge un'altra Mezz'ora di setup Cerca le carte di Beor Allora queste con la bandierina Vanno insieme a queste con il nome No aspetta Quelle con la bandierina Vanno con quelle senza nome È un attimo eh Sbagliarsi in un gioco del genere Era lo stesso problema Che avevo dato a Dungeon Alliance Cioè ti finisce una carta Anche qui Il po' succede Una carta basica Nell'avancement pool E ce la trovi più avanti Fai Aspetta ragazzi Fermiamo il gioco un attimino Aspetta la vado a cercare Per dove è finita Dentro la scatola di gioco La confezione Ci sono quattro scomparti Consiglio spensierato Mettetele magari Tutte quante imbustate E mettetele divise Per setup dei personaggi Nei vari scomparti Perché se le mettete Tutte insieme Cioè le mischiate Siete stanchi A fine serata Le mettete tutte insieme La volta dopo ragazzi A farci una partita Vi sentite male E il problema di questo gioco È proprio il setup E rimetterla a posto Perché non sto scherzando Una carta Che finisce da un'altra parte Ti va a contare Tu mazzo di carte azione Che sono sempre 15 E fai Ma perché sono 14 Aspetta Fermi Fermi ragazzi Sono 14 E dove cazzo L'ho messa L'altra carta Magari vai a vedere Finita nel mazzo di Beor Perché Beor Per sbaglio Se l'è presa L'altro giocatore Cioè Ci dovete stare Molto 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 attenti Anche per questo Che vi viene in aiuto Questa scheda Questa scheda qui Serve per tenere conto Di tutto Ok Tutte le cose che avete fatto Le quest che avete scoperto Quindi è un gioco Molto complesso Ed è un gioco Che assolutamente Non è per tutti Laddove Nemesis invece Sì è per gli amanti Di Alien Dello sci-fi Dell'horror Quindi è un nì Anche Nemesis Però Nemesis Sala che infine È un gioco Dove si tira dadi Dove si rivelano le stanze Questo è un gioco Con una fortissima narrativa Quindi questo qui È un gioco Per gli amanti Di giochi di ruolo Soprattutto Qui se uno che Gioca a Zombicide Lo compra Io sono convinto O se ne innamora O dopo un mese Lo rivende Dopo la prima partita Oppure anche Un giocatore Di qualsiasi altro titolo Che comunque Massive Darkness Che abbia una componente Più di azione Quindi è un gioco Non di nicchia Poi ragazzi Io non sono un recensore Però per cosa ne penso io È un gioco Molto di nicchia Troppo di nicchia Ovvero io Questo lo compro Perché mi galbanda Mori giochi di narrativa Però ad esempio Un altro mio amico Senza fare nomi Non lo prenderebbe Quando glielo ho parlato Il tutto ha detto No non è il tipo di gioia Che con una osa Molto più veloce Quindi se cercate un gioco Da un'oretta Un'oretta e mezzo Da portare una sera Dagli amici Uno Non lo potete fare Perché dura troppo Ci vuole un'ora solo per far setup Proprio per rimetterlo a posto E portarlo via Occhio Se prendete una carta Siete finiti E in più È un gioco a campagna Sì È vero C'è anche una modalità Single shot Nel manuale di gioco Che vi dice Giocate ogni mappa per sé Però è un gioco a campagna Quindi Finita l'avventura Ti collega Con quello che succederà dopo Ma non solo ti collega Quello che avete fatto Nell'avventura prima Cambia quello che succederà Nell'avventura dopo Perché nel manuale A mo' di Libro game Ti dice Hai fatto la cosa A B o C E quindi ti manda direttamente A un altro collegamento L'avventura dopo Avrà degli atti risvolti A seconda di come avete finito L'avventura prima Perché L'avete finita la quest del fabbro Dell'avventura prima Sì L'abbiamo finita E allora Va avanti così L'avete incontrato il druido No Il druido no E allora va avanti e cosa Cioè È un casino della madonna Quindi Se le devo dare Un voto complessivo A questo tainted grade Le do un 8 su 10 Occhio Questo per me A livello di emozioni E quando uscirà in italiano Dalla gioca Uniti Lo rivolgo a giocare anche in italiano Magari me lo godrò anche di più Questo è un gioco Che può avere tranquillamente Un 10 Per un fanatico come me Quindi Il mio cuore Dice 10 La mia testa Dice 8 Perché È complicato Complesso Ed è Secondo me anche No Machinoso no Quello no Perché le regole sono veloci Però De fra setup È una cosa nata Da tenere a mente Ti fuma il cervello Qui ci devi giocare Con gente attenta E precisa Se ci giochi con quello Che fa un po' il cazzoncello L'avete visto Andiamo a giocare Ma vor druido Attacco l'omino Rubo il tesoro Che ti fa casino Magari anche uno disattento Che ti mette una carta Dall'altra parte Ragazzi siete finiti Quindi è un gioco Veramente D'attenzione Ed è un gioco Serissimo Cioè non c'è componente Per lo scherzo O per la risata E Se le devo dare un voto 8 su 10 Meritatissimo Passate appena i voti Vi lascio il link In descrizione Che rimanda il primo Direttamente al sito Della Giochi Uniti Per restare aggiornati Perché nel 2020 Non so se marzo Aprile o maggio Lo porteranno E lo rivoglio Tutto tradotto in italiano E Sicuramente faranno Un lavoro della madonna Non vedo l'ora di leggerlo E di provarlo Soprattutto il libro Dell'avventure E poi tutti quanti I link A nostri social Ragazzi fatemi sapere Cosa ne pensate Ora vi ho dato Un'infarinatura Però ben o male Il funzionamento del gioco È quello Per me Passate veramente Appena i voti Però non è assolutamente Un gioco per tutti Per come la vedo io Ciao ragazzi Alla prossima